Michela e Alaggi sono moglie e marito. Lei che ha già girato il mondo, lavorato all'estero e anche un'esperienza amministrativa a Chiaravalle e precisa non sono una fotografa. Queste immagini sono state realizzate con ipad e cellulare ma questo dettaglio nulla toglie allo spessore del messaggio. La mostra parte da quella foto perché in realtà lui questo ragazzo è un ragazzo che ho incontrato lungo le strade di Bingiona e mi ha colpito il fatto che fosse vestito così pesante, così invernale e quindi chiedo lui il perché di questo di questo abito, di questo cappotto e lui mi dice che era pronto per partire, per andare in Europa, qui non c'era niente da fare, si sta male in Africa, non c'è lavoro e quindi rappresenta secondo me proprio la condizione di questi ragazzi. Lui Alaggi, senegalese, approdato in Italia dopo una dolorosa migrazione durata anni, non voleva lasciare il suo paese, è stato costretto a farlo per le condizioni di vita non sopportabili, fame malattia, inquinamento, violenza, corruzione. Nel suo viaggio verso l'Europa è stato bloccato in Libia tre anni, indietro non si poteva tornare perché era scoppiata la guerra e nel deserto a sicura non si sopravvive, si muore molto più che in mare. Sono stato in carcere, ho lavorato come schiavo, alla fine sono riuscito a partire per mare con un barcone sovraccarico, 30 posti per 120 persone. Se fossi rimasto il padrone mi avrebbe ucciso, parti o ti sparo, ha detto. Tu sei legato alla foto che vediamo alle nostre spalle, per quale motivo? In questa foto che vedete è una foto storica perché il ponte sta per attraversare Gambia e Senegal che siamo molto vicini e poi hanno costruito un ponte lì, quindi vuol dire che questo traghetto quasi non esiste più. Per adesso sto in Italia, lavoro qua ma ho sempre avuto questa voglia di aiutare i parenti che stanno lì, tutto iniziato dalla povertà.